Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Ludovica Olgiati e oggi vi accontenterò perché in tantissimi me l'avete chiesto e registrerò i miei follower contro la nuova mia vita per 24 ore dato che è presto e che mi sono appena svegliata ho fatto già un sondaggio su Instagram chiedendovi che cosa avrei dovuto mangiare per colazione ho chiesto se volevate che io mangiasse un cappuccino di Starbucks o l'insalata di riso di ieri sera che l'82% ha risposto cappuccino di Starbucks, non me lo sarei mai aspettata, quindi grazie allora adesso sono qui e proviamo questo, un caffè macchiato e matizzato al caramello proviamo è buono allora ho appena finito il cappuccino, visto che siamo al mare, siamo a Cesenatico io e Giulia volevamo chiedervi se dobbiamo andare al mare, quindi adesso faremo il sondaggio dobbiamo andare al mare? il 93% di voi ha deciso che dobbiamo andare al mare, quindi adesso mi preparo qui di colpo una domanda sorge spontanea che cosa mi metto? che costume mi metto? ok, allora vi ho chiesto quale costume avrei dovuto indossare tra questi due tutto nero con gli anellini di fianco o questo rosso 58% di voi ha detto nero, quindi metterò quello nero ok, ho messo il mio costume nero, mi piace molto dato che i miei capelli mi fanno abbastanza schifo li tengo legati o li lascio sciolti ok, il 59% di voi ha detto capelli legati per cui adesso mi farò qualcosa di decente stiamo avviando verso il mare e mi sono fatta una cipolla un pochino più presentabile siamo arrivati in spiaggia e adesso farò il sondaggio facciamo il bagno? ora siamo qua sotto l'ombrellone ad annoiarci il 92% di voi ha scritto fate il bagno, quindi adesso faremo il bagno nell'acqua marrone yeeeh questo... oh! io lo voglio, devo fare il bagno nel video se vuole l'utria Ludovico adesso siamo venuti a trovare la Sabri quindi vi porto con me siamo qui all'evento della Sabri la Sabri è lì, vi darà mai nella vita adesso saliamo e andiamo a incontrare la Sabri sì, sì, sì allora, c'è la Ludo e c'è la Giulie foto, foto, tazza allora, abbiamo appena finito, abbiamo salutato la Sabri adesso andiamo da un perrucchiere adesso sono venuta nel centro commerciale perché ho fatto un sondaggio di cui sicuramente mi pentirò che è... mi taglio i capelli allora, adesso sto aspettando che mi taglio i capelli cioè, devo lavarli e... ansia dove mi metto? io mi sento già male ma male si vuole magari togliere il mio doppio sì, sì... Sì, sì vera come il portato. Hai. Siamo tornate a casa Mi sono cambiata E ho raccolto i capelli Comunque Ora cucineremo io e Giulia E la vedo molto brutta Ho fatto il sondaggio su che cosa dovessimo preparare E ha vinto Pasta, panna e piselli Sì E il prosciutto la stessa cosa Allora prima cosa da fare E prendere una padella Una pentola in realtà Quando l'acqua inizia a bollire Ok allora abbiamo messo La pentola sul fuoco Adesso si sta bollendo E poi abbiamo messo La pasta su un piatto Per fare le porzioni E niente Aspetto di mettere dentro il sale Ok Allora abbiamo finito di cucinare Adesso vediamo com'è Ha un aspetto abbastanza invitante Mettemelo così È buona, è buona È al dente con piacematine Mi piace